Stasera tratterà del rapporto Censis 2010, qual è il ritratto dell'Italia che emerge? Un ritratto decisamente preoccupante, con anche una causa che viene individuata, una causa pesante e significativa a frutto di un decennio di involuzione dell'intero sistema economico mondiale, e cioè che davvero, come viene sintetizzato, il problema vero è proprio quello di un capitalismo, ormai alla deriva, che sostanzialmente satura di offerte le persone, le famiglie, le società e di conseguenza crea quella suefazione, come dice appunto l'indagine, che non dà più desiderio. Quindi la denuncia vera è proprio questa, una carenza fondamentale di desiderio, quindi di volontà di ripresa, una sorta di asuefazione, di frana verso il basso da parte di tutti i soggetti sociali. Quali sono secondo lei le vie di uscita? Ma come già dicevo, è proprio la ripresa del desiderio, sia sul piano sistemico, sia sul piano addirittura dei singoli. Desiderio, ovviamente, per chi ha dei valori di riferimento, delle fedi, fortemente radicato e motivato, per altri proprio come una sorta di dovere civico. Desiderio inteso come volontà di ripresa, come volontà di rimettersi insieme, di fare sistema. Diciamo le peculiarità del nostro paese, che in passato gli avevano consentito di avere dei forti momenti di successo, quindi anche sul piano economico, di boom, oggi devono essere assolutamente riprese perché non hanno più il vigore di prima.